Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo nella cappellina interna del convento dei frati minori Cappuccini, un luogo tanto caro a Padre Pio, anche perché lo ha visto protagonista, ecco, incessantemente per un lungo periodo della sua vita, dal 1931 al 1933, a celebrare qui la Santa Messa da solo, proprio perché gli era stato imposto dal Sant'Ufficio di non vedere nessuno, quel periodo che tutti conoscono come la segregazione di Padre Pio. Oggi vogliamo leggervi da questo luogo uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrive il 15 di agosto del 1916. Si trovava a Foggia, era già stato qui per qualche giorno, ma poi è dovuto tornare a Foggia perché non aveva il permesso di poter stare qui, anche se qualche giorno prima aveva scritto al suo ministro provinciale e aveva chiesto di partire per San Giovanni Rotondo perché qui si trovava bene. Era stato il 28 di luglio, ma poi dopo aver trascorso una breve settimana qui a San Giovanni Rotondo è tornato a Foggia, quindi ha scritto al ministro provinciale chiedendo di restare, ecco, mandatemi a San Giovanni Rotondo perché così vuole il Signore. E allora qualche giorno dopo, il 15 di agosto del 1916, sempre dal convento dei frati minori Cappuccini di Sant'Anna a Foggia, Padre Pio scrive a Padre Agostino Mio carissimo Padre, la Vergine Santissima di cui oggi tutta la Chiesa ne festeggia l'assunzione al cielo, vi conforti sempre e vi scampi da ogni pericolo. Chi può mai degnamente ringraziarvi delle assidue notizie che sono state sempre ottime, che mi avete finora regalate? A me mancano le parole adatte per farlo, ma il cuore però supplisce a tutto. Assieme alle anime lette vi accompagniamo dovunque con la ferbida ed assidua preghiera davanti a Gesù. Coraggio Padre, questo giorno non tarderà a spuntare contro ogni nostra umana previsione, perché quel giorno apparirà ammirabile ai nostri occhi per i trionfi della Divina Giustizia sulle iniquità. Anche voi, caro Padre, state tranquillo per ciò che riguarda il vostro spirito, e Gesù è con voi e vi protegge perché vi ama. E la presente prova servirà per voi in aumento di grazia e in premio per l'eterno convivio, sempre che con il Divino Aiuto non mancherete di reprimere ogni sentimento che ci porta ad innalzare sopra di noi stessi. Che dirvi di me, caro Padre? Sono un mistero a me stesso. E se mi reggo sì è perché il buon Dio ha riservato l'ultima e più sicura parola all'autorità su questa terra e che non vi è norma più fedele del volere e del desiderio del superiore. A questa autorità mi affido, qual bambino sulle braccia della madre, e spero e confido in Dio di non andare errato, sebbene il mio sentimento mi vuol far credere tutto il possibile. Padre mio, quando risplenderà il sole nel cielo dell'anima mia?